Lavorate? No, per fortuna, per ora abbiamo scelto di fare questa cosa proprio per non lavorare mai, voi lavorate! Ciao da Cosmopolitan, io sono Rachele Decata e qui siamo a Diluvio Universale, il nostro podcast dedicato agli acquazzoni della vita. Oggi a Sanremo piove, alza pennello! Vabbè, insomma gli ospiti sono loro, presentatevi a questo punto. Renga, Francesco Renga, Filippo Neviani, Pier Francesco Renga. Va bene, insomma siete in gara a Sanremo, lo sappiamo, ormai siamo fuori gara. E infatti vorrei dirvi che ho segnato qualche commento sui social dei vostri fan. Vado eh? Vai, vai, vai! Ma che fate, lavorate? No! Per fortuna, per ora abbiamo scelto di fare questa cosa proprio per non lavorare mai. Voi lavorate! Guardate le mani, noi abbiamo un callo. Quelli che lavorano hanno i calli. Sono calli per altre cose. Vabbè, questa la tagliamo, andiamo avanti. Renganek, quasi il nome di un gruppo heavy metal. Bello! Anche di un supereroe hanno detto. Comunque Renganek potrebbe anche essere un foriero di un progetto, per esempio, che noi nelle nostre notti abbiamo anche lucubrato, potrebbe essere... Un fumetto, ragazzi, ve lo dico io. Filippo, passo indietro se no non vedo il bel Francesco. No, potrebbe essere un disco hard rock, un metal. Come facciamo un disco? Perché c'è fredda? C'è dato un'idea. Va bene, allora, questo qua lo leggiamo in passant. Che gnocchi che siete, via, ce lo siamo già dimenticati. Oggi, gnocchi! Buongiorno, oggi è venerdì, giusto? Allora, giovedì, 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 giovedì gnocchi. Infatti voi dovete venire ieri. Ah, sì, ma siamo venuti. Ah, ma chissà cosa abbiamo fatto. Perciò io questa qua ce l'ho da ieri. Non eravamo truccata. Non eravamo pronti. Poi, dai, ragazzi, andiamo avanti. Abbiamo bisogno di normalità. Cos'è la normalità? Quello che facciamo noi. Esatto, noi stiamo facendo una cosa assolutamente normale, che è essere noi stessi in un posto in cui tutti quanti si impazziscono e pensano che questa sia la settimana più importante dell'universo, del mondo, della musica, della vita. E noi invece siamo qua come siamo a casa nostra. Noi siamo due provinciali. Invece questa è una bellissima parentesi nella nostra traiettoria, 40, 30 anni. Siamo qui, ci rimettiamo in gioco e viviamo il Festival di Sanremo. E ci siamo rimessi in discussione anche nella nostra normalità, nel senso che abbiamo qua le nostre figlie, abbiamo qua i nostri compagni. Oggi arriva anche il Cagnino. Bene, allora Neck, un'ultima domanda per te. Si è parlato molto, insomma, di questo amore maturo che voi cantate, che non è un amore tossico. E allora una utente ti ha... No, è proprio contro. No, è proprio contro. E che contro l'amore tossico? Il momento che stiamo vivendo in cui non c'è amore, ma ci sono sentimenti malati, di possessione, tutto forché amore. Ci sembra che sia proprio una reazione, una narrazione purtroppo ormai quasi scontata, no? Perché anche nelle canzoni si racconta la declinazione di amore in questo modo. E noi pensiamo che invece anche, soprattutto le generazioni nuove, appunto quelle delle nostre figlie, ne parlavamo prima, abbiano bisogno e necessità di vedere, sentire raccontato anche attraverso le canzoni. L'amore è così per quello che è. Per quello che dovrebbe essere. Un amore puro, disinteressato, che si mette in discussione, sempre alla ricerca di una completezza che mai troverà. E questo dall'alto o dal basso, dalla nostra età adulta, ci siamo sentiti in dovere di raccontare. Bene, allora io vi lascio con questo commento di un autente che scrive Il mio amore per voi non è tossico, sono pronta. Quindi vabbè, sono tante dichiarazioni. Vedi come noi, in modo diretto e semplice, cerchiamo di esprimere questo attraverso i tre minuti e dieci della canzone. Anche tu sei stata così con noi. Va bene, allora grazie a Renganec. Ciao, grazie.